ciao da Guerz86 bentornati in mia compagnia oggi andiamo a vedere la video recensione dello xiaomi mi note un dispositivo interessantissimo dispositivo che in tanti mi avete chiesto io in questa videoprova ho la versione bamboo edition lo si vede anche chiaramente dal video disponibile tramite grosso shop al prezzo di 387 euro poi chiaramente vi lascerò il link in descrizione versione bamboo che è un molto particolare sia per chiaramente il suo retro ma sia anche perché non c'è o meglio io non ho trovato poi mi correggerete voi all'interno del video una versione da 64 gigabyte per questa colorazione qui in alternativa chiaramente la versione bianca ha anche la versione da 64 gigabyte iniziamo a così parlare un po' di caratteristiche tecniche abbiamo a bordo android kitkat 4.4.4 con la miui versione 6 161 sono i grammi di questo smartphone smartphone che è costruito con una percezione una qualità e una davvero una costruzione meravigliosa cioè tenerlo in mano usarlo è un piacere all'interno della giornata quotidiana è un piacere perché qui abbiamo tutto questo alluminio intagliato vedete anche i bordi come vanno a curvare parte qui un pochino più bombatina cioè veramente uno smartphone che è leggerissimo 161 dicevo sono i grammi distribuiti su un display da 5.7 pollici davvero non sembra di avere un phablet in mano ma sembra di avere un telefono un pochino più piccolo anche se vedete come il mio pollice fatichi molto ad arrivare in cima a questo display la batteria è da 3000 mAh una batteria che potrebbe sembrare leggermente sotto tono visto anche mAh su un dispositivo da un display così grande invece una batteria che ci fa tranquillamente arrivare a sera e questo non è una cosa da poco nella parte sinistra del dispositivo in questo caso troviamo il carrellino per estrarre il nostro vano sim sim che è in formato doppio abbiamo sia la nano sim che la micro sim nella parte superiore invece possiamo trovare l'ingresso del jack da 3,5 mm un secondo microfono per la rimozione dei rumori dei frusci ambientali e poi abbiamo tutte queste queste righe molto belle che sono chiaramente le righe delle antenne poi abbiamo il bilanciere del volume il tasto accensione spingimento nella parte inferiore troviamo l'uscita degli speaker dello speaker anzi scusate perché chiaramente uno solo è anche l'ingresso del cavo usb micro usb con entrata qui un micro usb tre tasti soft touch posti qua nella parte bassa invece nella parte superiore possiamo trovare i vari sensori di luminosità e prossimità e la camera frontale che è da 4 megapixel una risoluzione un po strana per un fablet insomma per un telefono visto che ormai abbiamo 5 8 invece xiaomi xiaomi anzi sceglie i 4 megapixel il pannello è un bellissimo display 5.7 pollici full hd da 386 ppi ips lcd gorilla glass 3 andiamo a sbloccare il nostro dispositivo ecco qua usciamo un po dalle varie chat vedete questa è la miui in versione 6.0 ho installato l'ultima beta l'ultima release pubblica che ho potuto trovare sui vari forum di xiaomi e vedete come l'interfaccia vabbè ormai lo sappiamo l'abbiamo vista all'interno di mi 4 all'interno dei vari xiaomi interfaccia in pieno stile apple cosa cambia all'interno di questo dispositivo ma anche dei dispositivi xiaomi cambia le tantissime impostazioni che possiamo trovare all'interno appunto delle impostazioni stesse e vi devo dire che non c'è un video in cui vi potranno mostrare tutte queste impostazioni perché veramente sono tantissime e cambiano di settimana in settimana con l'aggiunta delle nuove rom questa è anche una cosa bellissima che avviene all'interno appunto di questi dispositivi se infatti entriamo nelle impostazioni aggiuntive guardate come ancora il menu diventa sempre più ampio rispetto a quando mesi fa avevo provato il mi 4 si possono cambiare i tasti si possono cambiare le disposizioni delle dei toggle qua sopra si può veramente cambiare tutto il fonte la modalità di lettura abbiamo la modalità quanti abbiamo il led di notifica che può cambiare colore modalità antidisturbo possibilità di scegliere nella lock screen cosa vedere cosa non vedere veramente tutto la modalità smart cover se andiamo ad acquistare una cover possibilità anche di loggarsi tramite l'account sia home e quindi anche loggarsi e salvare tutti i propri dati in cloud e possiamo trovare anche tante impostazioni per l'audio quindi giorno dopo anzi settimana dopo settimana proprio sia home mette a disposizione tante cose all'interno delle proprie rom vedete anche abbiamo la possibilità di andare ad inserire dei temi temi che sono tranquillamente repelibili all'interno dello store store che chiaramente ci sono temi gratis e temi a pagamento i temi poi andranno ad installarsi all'interno del proprio smartphone e cambieranno tutta l'interfaccia dalla suoneria da proprio il motivo del tema dai vari sfondi quindi tranquillamente possiamo andarci a scaricare quello che più ci piace andiamo a sentire anche questo speaker qua in basso come suona o come riproduce una nostra canzone vi dico subito che lo speaker è molto buono anche se è singolo davvero l'audio è altissimo davvero uno speaker che esplode tutta la sua potenza e non ho mai perso una notifica ma soprattutto si sente la differenza anche in base agli altri dispositivi qui abbiamo il dialer telefonico con ricerca rapida e rubrica abbiamo anche la possibilità di settare i vari tasti vedete con un tab prolungato delle impostazioni possiamo scegliere i vari sfondi vari widget muovere le applicazioni possiamo addirittura portare più di un'icona qua in basso per muoverle direttamente tutte da una parte solamente se tappiamo una volta e via possiamo o chiudere un'applicazione o tenendo premuto la x andare a chiudere tutte le app aperte davvero un'interfaccia che più la usi e più la ami e capisci cosa veramente sia o mi ha inserito al suo interno perché è veramente difficile prende questo dispositivo e vedere insomma come come viaggia e tutte le funzioni che può avere questo terminale avete visto anche nel video focus giochi benchmark se non l'avete visto vi metto il box interattivo qui sulla destra come il processore snapdragon 801 da 2,5 gigahertz quad core la dreno 330 e 3 gigabyte di ram fanno girare anche i nostri giochi in maniera fluidissima senza nessun tipo di impuntamento nessun tipo di impuntamento anche nella modalità di scatto della fotocamera abbiamo la possibilità di scattare foto o scattare video tramite il tab qua a destra tutte e due le varie app sia la possibilità di fare video che foto hanno il proprio tab delle impostazioni impostazioni in cui possiamo scegliere se fare video in 4k e chiaramente altro box interattivo che vi rimanderà al video focus alla prova del video girato in 4k nonché anche se entriamo nella modalità fotografia possiamo andare anche qua a scegliere degli effetti da usufruire subito all'interno dello scatto fotografico nonché anche avere tutti i nostri settaggi modalità panoramica manuale modalità tonalità pelle uv focus auto scatto insomma c'è tutto all'interno di questo dispositivo tutto perché sono stati molto attenti a cosa mettere nelle impostazioni possiamo anche andare a cambiare la qualità della foto cambiare da 4 terzi a 16 noni o da qualità alta normale e bassa adesso vi faccio partire qualche scatto eseguito con questo smartphone Grazie a tutti ecco avete visto gli scatti molto buoni la messa a fuoco è rapidissima non ho mai avuto nessun tipo di problema nell'andare a scattare una foto con questo smartphone andiamo a vedere l'ultima cosa ovvero il browser browser che devo dire allora chrome funziona benissimo quindi se siete degli amanti di chrome questo è il telefono che fa per voi perché davvero naviga benissimo con il con l'applicazione chrome su altri dispositivi va leggermente peggio invece su questo show me mi note va veramente bene ho avuto qualche problema e l'ho ancora effettivamente sul corriere insomma tutti quei siti che richiedono l'user agent desktop per una navigazione maggiore vedete tutte le volte che io vado a arrivare il telefono lui mi cambia l'user agent ora potrebbe essere la mia unità che ha qualche problema visto che ho un'unità di test per le varie testate giornalistiche però insomma ho questo problemino ecco non so se è la mia unità oppure magari ecco scrivete se possedete questo mi nota all'interno dei commenti se anche voi avete notato tutto ciò vedete il browser è comunque fluidissimo siamo a pari con chrome funziona bene lo scrolling il pinch il pan tutto gira alla perfezione ogni tanto ecco mi da questo problema con l'user agent è un po fastidioso e quindi sono lì che alterno i due browser però devo dire anche con questo qui stock si naviga davvero da dio allora quindi un dispositivo che io personalmente mi sento in grado di straconsigliarvi a tutti è bello è costruito bene è un dispositivo targato xiaomi xiaomi un dispositivo che ugo barra e tutta l'azienda ha disegnato questo nuovo smartphone in attesa del minote pro mi sento appunto di dirvi comprate pure questo smartphone perché perché la ricezione in chiamata è buona l'audio in capsula è ottimo ottima anche la ricezione della cella chiaramente della scheda ma anche la lte band 800 questo è un problema nelle mie zone ma magari potrebbe non esserlo per voi è un dispositivo che davvero mi è piaciuto mi è piaciuti materiali mi è piaciuto la pilla mi è piaciuta l'interfaccia mi è piaciuta l'idea di ogni settimana di ritrovarmi una rom tutta nuova con tante funzionalità in più cosa che tante case invece non danno o meglio tante personalizzazioni software non offrono anzi offrono un aggiornamento l'anno e questo per android non va assolutamente bene in più a fotocamera che fa foto davvero ottime per oggi è tutto cari ragazzi ringrazio ancora grosso shop punto net e ci sentiamo come sempre nei prossimi video un saluto dal vostro guerz 86